Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo anche che sono attiva su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi parla di un omicidio che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, mettendo in luce le intricate dinamiche tra la responsabilità personale e l'effetto delle sostanze leggere. Le reazioni alla sentenza sono state fortemente divise con alcuni che considerano la decisione una parodia della giustizia, mentre altri vedono nel caso una riflessione sui limiti e le complessità del diritto penale. Come sempre vi racconterò tutti i dettagli in mio possesso in modo che possiate formarvi una vostra opinione personale sulla vicenda. Ci troviamo a Santa Clarita, in California, a circa un'ora da Los Angeles. È qui che Chad Brandon Omelia è nato il 27 settembre 1991. Chad è il primo genito di Michelle e Sean, due immigrati irlandesi. Tre anni dopo la sua nascita, la coppia mette al mondo un altro bambino, Shane. Il loro matrimonio non procede bene, così decidono di lasciarsi. Ma nonostante questo, i genitori di Chad e Shane rimangono in buoni rapporti. Sean ha ricevuto un'educazione cattolica irlandese e per lui è davvero importante essere sempre presente per aiutare e sostenere la madre dei suoi figli al meglio delle sue capacità. Entrambi fanno molti sforzi per portare avanti la co-genitorialità. Chad trascorre un'infanzia felice e col passare degli anni rimane un ragazzo molto dolce e gentile con tutti. Educato, rispettoso ed estroverso, è sempre sorridente e fa in modo che le persone intorno a lui si sentano incluse e a proprio agio. Chad è un bravo ragazzo, ma è anche ambizioso e determinato. Diligente negli studi, il suo sogno è quello di diventare un contabile, nonostante i suoi amici ogni tanto lo prendano in giro per questa sua aspirazione. Ma Chad non vacilla e sa che deve impegnarsi per raggiungere il suo obiettivo. Il ragazzo è anche un atleta straordinario, gioca a baseball, a calcio e a football. Si diploma alla Heart High School nel giugno del 2009 e prosegue gli studi frequentandola a California State University a Chico. Durante il suo tempo libero, Chad si dedica al volontariato ed entra a far parte della confraternita Sigma, dove svolge il ruolo di tesoriere. Dopo la laurea, Chad riesce a trovare un lavoro come contabile a Camarillo, mentre è in attesa di ottenere la certificazione di contabilità pubblica. Nel 2018 si trasferisce insieme ad altri due amici in un complesso condominiale situato a Towson Oaks, in California, che si trova a pochi passi da un parco per cani. Chad porta spesso a passeggiare il suo pastore tedesco Atena in questo parco e un giorno incontra una ragazza di nome Brin, un'audiologa di 32 anni che sta passeggiando con il suo cane di assistenza, un ASCII siberiano di nome Aria. Brin Spachkar è cresciuta in una famiglia di ceto medio dell'Illinois. A soli tre anni le viene diagnosticata una perdita dell'udito e, dall'età di quattro anni, indossa sempre apparecchi acustici. Purtroppo, quando inizia a frequentare la scuola, i suoi compagni la prendono in giro e Brin ha difficoltà a farsi rispettare. La ragazza fa anche fatica a seguire le lezioni e deve impegnarsi molto di più dei suoi compagni per ottenere gli stessi risultati. Nonostante le difficoltà, si dimostra una studentessa brillante e, alla fine, dopo la laurea, viene ammessa la Washington University School of Medicine situata a St. Louis, dove consegue il dottorato in audiologia nell'agosto del 2017. La sua esperienza personale, ovvero aver sofferto di perdita dell'udito, l'aveva spinta verso l'audiologia, con il desiderio di aiutare chi sta affrontando le stesse sfide che anche lei ha dovuto superare. Successivamente si trasferisce dall'Illinois alla California, più precisamente a Thousand Hawks, dopo aver accettato un lavoro come audiologa presso l'Università della California a Los Angeles. Quando lei e Chad si incontrano al parco, Brin vive in California da meno di un anno. I due iniziano a chiacchierare, flirtano e si rendono conto di trovarsi bene insieme. Infatti decidono di rivedersi e iniziano a frequentarsi. Arriviamo alla sera del 27 maggio 2018. Brin e Chad si stanno frequentando da circa un mese e il ragazzo ha iniziato ad apprezzare molto Brin. Secondo uno dei suoi coinquilini, Chad parla spesso di lei e di quanto sia intelligente, simpatica e carina. Si trova molto bene con lei e la sera del 27 maggio Chad invita Brin a casa sua per passare un po' di tempo insieme e per presentarle i suoi coinquilini. È davvero entusiasta rifargiela conoscere. Brin ha in programma di andare fuori città, quindi colgono l'occasione per vedersi un'altra volta prima della sua partenza. Brin e il suo cane, Aria, si dirigono verso il condominio del ragazzo. Dopo il suo arrivo, lei, Chad e uno dei coinquilini trascorrono un po' di tempo in soggiorno guardando i Griffin. Successivamente il coinquilino di Chad, che si chiama Vinny, decide di lasciare il suo amico Ebrin da soli. Così si dirige al piano di sopra, si fa una doccia e poi si mette a letto a guardare dei video sul cellulare. Anche l'altro coinquilino di cui l'identità non è nota è a casa, ma prende dei sonniferi per dormire e usa i tappi per le orecchie. Quella notte, quindi, non sentirà nulla di quello che succederà nell'appartamento. Nel frattempo, Chad e Brin decidono di consumare della sostanza leggera. Chad fuma spesso e ha una certa tolleranza, mentre Brin non è un'assidua consumatrice. Presto Chad inizia a sentire gli effetti della sostanza, ma Brin non sente nulla. La ragazza lo dice a Chad, così lui la convince a fumare di più. O almeno, questo è ciò che affermerà Brin. Vinny sta ancora guardando dei video sul cellulare, in camera sua, quando inizia a sentire dei rumori strani provenire dal piano di sotto nel soggiorno. Inizialmente sente dei frusci, ma non li considera allarmanti, fino a quando sente qualcuno urlare «Togliti di dosso!» e il rumore di qualcosa che si rompe nel soggiorno. A questo punto si preoccupa, si alza e si dirige al piano di sotto per assicurarsi che sia tutto a posto. La prima cosa che attira la sua attenzione mentre scende gli scalini sono i cani di Chad e Brin. Athena e Aria, entrambe sedute ai piedi delle scale, visibilmente spaventate. Quando raggiunge il piano di sotto, nota che i mobili sono stati spostati, alcuni oggetti sono rovesciati e, cosa ancora più allarmante, c'è davvero molto, molto sangue. Terrorizzato e confuso, Vinny vede Brin nel soggiorno che stringe tra le mani un coltello da cucina seghettato. Chad è piegato in avanti, sta cercando di restare in piedi mentre preme la mano su quella che sembra una ferita aperta sul petto, proprio sopra il cuore. Vinny non riesce a credere a ciò che sta vedendo, Brin è lì, con il coltello in mano e lo sguardo perso nel vuoto, è davvero inquietante. Quando incrocia lo sguardo con Chad, quest'ultimo lo implora di non andare a chiedere aiuto, ma di uscire dal condominio per la sua sicurezza. Vinny però torna al piano di sopra per cercare il suo telefono e quando lo trova, contatta la polizia. A questo punto dovrebbe lasciare il condominio, come gli ha chiesto Chad, ma non vuole lasciare il suo amico da solo con questa donna armata. Tuttavia, Vinny sa che se cercasse di salvare Chad, rischierebbe di essere pugnalato anche lui. Conclude che la cosa migliore da fare per tutti è uscire dal condominio il più velocemente possibile per chiedere aiuto. Vinny sta ancora parlando al telefono con la polizia e sta per lasciare il condominio. Quando Bryn riprende a pugnalare Chad, continuando anche quando il ragazzo è ormai inerte. Appena giungono sul posto, gli agenti si trovano costretti a utilizzare diverse volte il taser su Bryn per fermarla, ma non sembra avere effetto su di lei, poiché continua a pugnalare ripetutamente Chad senza mai fermarsi. Poi, improvvisamente, punta il coltello contro il suo amato cane di assistenza, Aria, e la colpisce. Successivamente inizia a urlare contro la polizia e a ferirsi, affondando il coltello nel suo stesso collo. I detective intervenuti si vedono costretti a colpirla più volte, addirittura nove, con i manganelli d'acciaio, arrivando a romperle il braccio. Solo a quel punto Bryn lascia cadere a terra il coltello. La polizia riesce finalmente a fermare Bryn, ma bisogna agire in fretta perché la situazione è estremamente grave. Vini si inghiozza in modo incontrollabile fino a cadere in uno stato di shock. Aria, la cagnolina di Bryn, viene portata d'urgenza da un veterinario e, secondo alcune fonti, riesce a sopravvivere e si rimette del tutto. Nel frattempo Bryn viene portata fuori dal condominio su una barella e caricata in ambulanza. viene trasportata in ospedale, dove viene sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Purtroppo, però, Chad, nonostante i tentativi disperati di salvarlo, poco dopo l'una di notte di lunedì 28 maggio 2018, viene dichiarato morto. L'autopsia rivelerà in seguito che era stato pugnalato, sentite bene, più di cento volte. aveva ferite al collo, al petto, alla parte posteriore della testa, era pieno di ferite da difesa. Chad ha subito dei danni irreparabili alla gola, alla trachea, alla giugulare, all'arteria coronaria, ai polmoni, al cuore e al fegato. Sia ferite da taglio superficiali che profonde. In pratica Bryn ha letteralmente massacrato questo giovane. Ora, resta una domanda. Cosa aveva causato questa reazione assurda di Bryn? La ragazza presenta diverse ferite da taglio, ha il collo autoinflitte e un braccio rotto. Quando la polizia arriva per la prima volta in ospedale, spera di poterla interrogare, ma la ragazza è intubata e sottoposta a ventilazione artificiale. Inoltre, non indossa i suoi apparecchi acustici, il che rende molto difficile comunicare con lei. Inizialmente Bryn risponde ad alcune domande scrivendo su un foglio le risposte. Dopo aver rimosso il ventilatore ed essere stata sottoposta all'intervento chirurgico, Bryn è in grado di parlare con gli agenti. Tuttavia, durante le prime interazioni si rendono conto che la ragazza è molto confusa. Non sa dove si trova e non ricorda cosa sia successo. Non ha idea del perché si trova in ospedale. Chiede con insistenza agli agenti cosa sia successo a lei e a Chad e domanda anche se ha subito violenza intima. Bryn fatica a ricordare gli eventi che l'hanno portata lì, ma dopo quattro giorni, il 31 maggio, viene dimessa dall'ospedale e quindi le viene permesso di andarsene. Tuttavia, mentre sta per ribarcare le porte dell'ospedale, viene arrestata e accusata dell'omicidio di Chad. Viene portata alla stazione di polizia e finalmente gli agenti possono interrogarla come si deve, così la ragazza racconta la sua versione dei fatti. Bryn spiega che era a casa di Chad e stavano guardando la tv, quando verso le 22.30 Chad aveva deciso di fumare un po' di sostanza e lei gli aveva detto che gli sarebbe piaciuto provare. All'inizio non aveva sentito nessun effetto, quindi aveva continuato a fumare. Dopo un po', però, aveva iniziato a sentirsi molto, molto strano. Nel giro di pochi minuti, tutto era cambiato. Aveva la sensazione di non riuscire a respirare, le veniva da vomitare e la sua vista aveva iniziato a offuscarsi. Chad si era accorto che non stava bene, quindi gli aveva chiesto se fosse tutto ok e cosa ci fosse che non andava e si era alzato per andarle a prendere dell'acqua, sperando che servisse a farla stare meglio. Ma le cose hanno iniziato a peggiorare, i suoi tentativi per calmarla non sortivano effetto e dopo qualche minuto Brin gli aveva detto che pensava di star per morire. Aveva chiesto a Chad di restare con lei e di rimanere sveglio per controllarla perché era certa che sarebbe morta. Dopo circa un minuto, Brin aveva iniziato a sentire salire dentro di lei una rabbia incontrollata. Pensava di aver esagerato con la sostanza, afferma che Chad l'aveva costretta a consumarne più di quanto volesse. Aveva iniziato ad avere anche delle allucinazioni in cui pensava di essere davvero morta e sentiva che la colpa era di Chad perché era stato lui a darle questa sostanza e a fargliela provare. Così aveva pensato che l'unico modo per poter ritornare in vita era uccidere Chad. Afferma di non avere idea di perché fosse arrivata a pensare una cosa del genere ma era convinta che fosse ciò di cui aveva bisogno. Spiega che più diventava violenta e aggressiva più sentiva che stava tornando in vita. Per lei è davvero inspiegabile quel comportamento e afferma di aver sofferto di una psicosi indotta proprio dalla sostanza. In quel momento sentiva infatti delle voci nella testa che le dicevano che doveva uccidere Chad. Afferma che non aveva alcun controllo delle sue azioni in quel momento. Senza dire una parola era entrata in cucina aveva afferrato un coltello seghettato dal ceppo di coltelli e aveva iniziato a pugnalarlo. Quando era arrivata la polizia però queste voci avevano iniziato a dirle delle cose diverse. Le avevano ordinato di farsi del male. È assurdo che il consumo di quella semplice sostanza leggera possa alterare lo stato mentale di qualcuno così drasticamente specialmente considerando che in molti stati americani è legale e generalmente considerata abbastanza innocua. Tuttavia i test sul campione di sangue di Brin anche se è difficile da credere mostrano che il c***o è l'unica sostanza rinvenuta. Durante il processo Brin si dichiara non colpevole quindi il caso viene portato in tribunale. All'udienza preliminare le viene concessa una cauzione di 510 mila dollari che Brin paga ottenendo di essere rilasciata. Nei cinque anni successivi la polizia continua a indagare per capire la dinamica dei fatti e cosa abbia scatenato la reazione estrema di Brin. Il processo viene fissato per l'ottobre del 2023 e, come sappiamo, non ci sono dubbi sul fatto che Brin abbia ucciso Chad. Ma arriviamo al 27 settembre 2023. A meno di 30 giorni dall'inizio del processo il caso subisce una svolta sorprendente. Le accuse originali contro Brin, inclusa l'accusa di omicidio di Chad erano state presentate dal procuratore distrettuale della Contea di Ventura Greg Totten. Tuttavia nel 2021 Greg Totten aveva lasciato l'incarico per assumere la posizione di amministratore delegato dell'Associazione dei Procuratori Distrettuali della California a Sacramento. In sua assenza il caso era stato assegnato al procuratore distrettuale Catherine Walker che si è presa la responsabilità di ridurre le accuse di Brin da omicidio a omicidio colposo. Con le accuse precedenti la ragazza rischiava l'erogastolo ma a questo punto Brin potrebbe passare giusto qualche annetto in carcere. Tra l'altro ci sono voluti ben cinque anni e mezzo per arrivare a processo e tutto questo periodo di tempo Brin lo ha trascorso vivendo normalmente, in libertà, perché aveva pagato la cauzione. E ora, come se non bastasse, vengono anche declassate le sue accuse. Brin inoltre si dichiara ancora una volta non colpevole nonostante sia stata accolta in flagrante con un coltello in mano. E quindi io mi chiedo con che coraggio si dichiara innocente. L'omicidio colposo viene definito come l'uccisione involontaria di un'altra persona attraverso un comportamento sconsiderato o commettendo un altro crimine. Tuttavia, Brin ha pugnalato Chad più di cento volte. Quindi in questo caso viene contestata solo l'intenzione della ragazza. Brin aveva coltellato Chad di proposito o lo aveva fatto perché era in uno stato di alterazione mentale? Inoltre, dichiarandosi non colpevole, Brin non accetta neanche la responsabilità di aver ucciso Chad involontariamente, contraddicendo ciò che aveva affermato durante l'interrogatorio con la polizia. Quando Sean, il padre di Chad, va nell'ufficio del procuratore distrettuale per discutere della riduzione delle accuse, vuole ovviamente sapere il motivo di tale decisione. Il procuratore distrettuale afferma che considerano l'accusa di omicidio colposo di Brin una scelta etica. Sean ribatte che la questione etica non c'entra proprio nulla, lei ha comunque tolto la vita a un essere umano. Chiede che le accuse vengano cambiate nuovamente in omicidio di secondo grado o almeno che l'accusa di omicidio di secondo grado sia lasciata in sospeso affinché la giuria possa decidere. Tuttavia, l'accusa afferma che gli esperti di salute mentale hanno concluso che Brin, la notte in cui ha ucciso Chad, era in uno stato di psicosi indotta dalla sostanza. In realtà anche l'esperto della difesa giunge a questa stessa conclusione. Quindi le accuse vengono declassate affermando che non ci sono prove a sostegno dell'accusa di omicidio di secondo grado. In pratica non avrebbero lasciato alla giuria la possibilità di decidere se secondo la loro opinione Brin avesse commesso un omicidio di secondo grado o un omicidio colposo. Il processo di Brin per omicidio colposo inizia il 9 novembre 2023. La discussione non verte sull'intento dietro all'omicidio poiché sono tutti concordi sul fatto che Brin abbia avuto una psicosi. Secondo la legge della California, le persone sono responsabili delle loro azioni anche quando sono compromesse da sostanze o alcol assunti volontariamente. Non sono però responsabili delle loro azioni se l'ubbriachezza e l'alterazione mentale è involontaria, ad esempio se qualcuno aggiunge di nascosto qualche sostanza in un drink. Durante il processo viene detto alla giuria che l'alterazione mentale involontaria potrebbe significare che il soggetto ha assunto un farmaco inconsapevolmente o che l'ha preso sotto costrizione o con l'inganno. L'accusa dipinge Brin come una narcisista che ha scelto autonomamente di assumere la sostanza la notte dell'omicidio. Mostrano anche dei messaggi tra lei e alcune sue amiche in cui afferma che avrebbe bevuto alcol fino a ubriacarsi cosa che in effetti aveva fatto tanto che aveva assaltato il lavoro la mattina seguente a causa dei postumi della sbornia. In altri messaggi Brin parlava del suo amore per la sostanza coinvolta in questo caso. L'accusa afferma questa è una giovane donna che vive uno stile di vita fatto di ubriacature svenimenti, assenze dal lavoro. La sua decisione di assumere la sostanza il 28 maggio ha portato alla morte violente e crudele di Chad Emilia. La descrivono come una donna forte anche dal punto di vista professionale che ha preso la decisione di assumere quella sostanza senza essere costretta da nessuno tanto meno da Chad. La difesa invece la dipinge come una povera e dolce donna che ha esagerato con la sostanza e ha ucciso accidentalmente qualcuno. Sostiene che Brin è una giovane donna responsabile per bene che non ha mai preso parte a feste non ha mai bevuto e non ha mai fatto uso di sostanze. Gli amici di Brin lo confermano sostenendo che la ragazza non è mai stata una festaiola o una consumatrice di sostanze. Non ha precedenti penali e niente dal suo passato indica che abbia mai tenuto comportamenti violenti. Brin si sentiva intimidita da Chad anche se non l'aveva minacciata fisicamente. La prima prova che mostrano in tribunale è il filmato della bodycam di un agente che è intervenuto la notte in cui Chad è stato ucciso. Il video mostra Brin inginocchiata vicino a Chad mentre si pugnala ripetutamente al collo. Tutti gli agenti presenti hanno dovuto usare le pistole stordenti e i manganelli per cercare di fermarla. I genitori di Brin affermano che non pensano che loro figlia sia un'assassina e che Brin non aveva un reale interesse romantico per Chad. Tuttavia molte fonti affermano il contrario, dunque non è del tutto chiaro che tipo di rapporto avessero Chad e Brin. L'obiettivo principale dell'accusa da quando le accuse sono state ridotte è dimostrare che Brin aveva agito con negligenza e che a causa di ciò aveva causato la morte di Chad. Concludono dicendo che è realistico credere che Brin potesse o dovesse sapere che quella data sostanza potesse causarle una reazione psicotica anche se è risaputo che quella stessa sostanza altra la mente di chi l'assume. Durante il processo pare che l'obiettivo della difesa fosse quello di far assolvere Brin non solo per l'omicidio ma anche per la decisione di aver consumato la sostanza sostenendo che è stato Chad a costringerla a consumarne di più come ha dichiarato l'imputata. In pratica, secondo la difesa Brin non dovrebbe essere ritenuta responsabile per nulla di ciò che è accaduto. Stanno cercando di dimostrare che Brin era involontariamente alterata dalla sostanza non solo perché Chad l'aveva costretta a consumarla ma anche perché era stato lui a preparare il tutto e a far sì che potessero consumarla. Brin non aveva idea di cosa ci fosse dentro né di quanto fosse forte quindi i suoi avvocati hanno sostenuto che non avrebbe mai potuto prevedere che consumandola si sarebbe innescato un episodio psicotico. Ora vi dirò la mia opinione. A mio avviso Chad non l'aveva assolutamente obbligata a fare niente. Non solo perché da come è stato descritto non sembrava un tipo che poteva fare una cosa del genere ma soprattutto perché non capisco in che modo potrebbe averla costretta. Non è così facile costringere qualcuno a fumare e soprattutto ad aspirare. Tutti quelli che hanno conosciuto Chad hanno sempre sottolineato quanto fosse gentile e si assicurasse sempre che tutti intorno a lui fossero a loro agio e non si sentissero esclusi. Nessuno ha mai avuto qualcosa di negativo da dire su di lui. Quindi è poco credibile pensare che all'improvviso Chad si fosse abbassato al punto da far pressione su una ragazza a cui era interessato per farla fumare contro la sua volontà. Brim però non ha semplicemente affermato questa sua versione senza alcuna prova reale a sostegno. In realtà è stata interrogata dagli psicologi per ore e ore e sono stati presi in considerazione anche i lunghi interrogatori fatti con la polizia. Brim è stata sottoposta a numerosi test per determinare se stesse fingendo i suoi sintomi. Ogni volta gli psicologi non sono riusciti a trovare una sola prova a sostegno del fatto che l'imputata stesse fingendo o esagerando ciò che era successo quella notte. Lo psicologo principale che ha seguito Brim ha scritto un rapporto di 37 pagine concludendo che era stato proprio l'uso della sostanza ad aver innescato l'episodio psicotico che l'ha portata a uccidere Chad. Uno degli psicologi ha affermato di essere sicuro al 100% della sua diagnosi. Sono tutti convinti che questa ragazza non fosse in sé anche perché vi ricordo che si era pugnalata da sola al collo e che gli agenti avevano usato su di lei il taser e l'avevano colpita con dei manganelli d'acciaio ma lei sembrava insensibile al dolore. Brim non sentiva dolore perché in qualche modo era mentalmente disconnessa da se stessa. Tuttavia Chad converrete con me ha comunque perso la vita in un modo a dir poco orribile e quindi Brim deve subire le conseguenze del suo gesto. Al termine del processo l'accusa ribadisce che Brim è una festaiola che ha scelto spontaneamente di assumere questa sostanza e questo ha portato all'omicidio di Chad. Sottolineano come durante un'intera vicenda Brim non abbia mostrato alcun rimorso o anche solo tristezza per ciò che è successo a Chad. La difesa invece sostiene che la descrizione di Brim fatta dall'accusa è diffamatoria ed è un tentativo per infangare l'immagine della ragazza. Affermano che Brim è una persona onesta non è mai stata violenta e ha dedicato la sua vita ad aiutare le persone bisognose. Dopo circa una settimana di testimonianze la giuria si ritira per deliberare. Soltanto quattro ore dopo la giuria torna in aula e viene annunciato che ha ritenuto all'unanimità Brim e Spetscher colpevole dell'omicidio di colposo di Chad Amelia. Dopo la lettura della sentenza Brim abbassa la testa e comincia a singhiozzare lamentandosi del fatto che perderà la libertà e che il suo futuro è rovinato. Questa reazione è in netto contrasto con la mancanza di emozioni che sembra aver dimostrato per aver ucciso Chad. Per la famiglia e gli amici di Chad questo verdetto è una piccola vittoria almeno Brim è stata ritenuta colpevole tuttavia la sentenza non è ancora stata pronunciata. Il giudice David Worley annuncia che Brim non avrebbe trascorso un solo giorno in prigione ma la condanna a due anni di libertà vigilata e a cento ore di servizio alla comunità durante la quale dovrà educare il pubblico sui pericoli della sostanza leggera che lei stessa ha consumato. In difesa della sua decisione il giudice Worley dichiara Nessuno avrebbe potuto prevedere che un singolo tiro in più di quella sostanza quella notte avrebbe causato alla signorina Spedger una tale psicosi e rottura con la realtà. Certamente non Chad né la stessa signorina Spedger Alla luce di questi fatti non credo che un'ulteriore incarcerazione della signorina Spedger sia appropriata. Mentre esce dall'aula dopo aver ascoltato la sentenza Brim esclama Non posso credere che mi vogliano far fare dei servizi alla comunità. In risposta a questa sentenza incredibilmente leggera il procuratore della contea di Ventura Odri Nafziger dichiara questo giudice ha assolto l'imputata da qualsiasi responsabilità diversa da quella di essere stata condannata. Manda un messaggio molto molto pericoloso. Ho letto che molte persone hanno incolpato il procuratore distrettuale perché Brim in pratica non dovrà affrontare alcuna conseguenza ma in realtà da quello che ho capito Catherine Volker ha ridotto le accuse della ragazza ma è il giudice che ha deciso la sua condanna. Tutto ciò che ha fatto il procuratore è stato presentarsi in aula per discutere del caso che le è stato presentato quindi non capisco come possa essere una responsabilità del procuratore distrettuale se Brim non è stata condannata a scontare un periodo di tempo in carcere dopo la sentenza tra l'altro ha espresso chiaramente il suo disappunto per la clemenza mostrata a Brim la famiglia di Chad è estremamente amareggiata dall'esito di questo processo il padre di Chad dopo la sentenza dichiara cosa dovrà fare? Nulla dopo aver tolto la vita di un essere umano voglio dire la libertà vigilata questa non è giustizia e definisce la sentenza una parodia del sistema e trovo abbia ragione anche perché ho scoperto che ci sono persone che stanno scontando un ergastolo per reati non violenti legati alle sostanze ora questa ragazza Brim dopo aver commesso un reato violento sotto l'influenza delle sostanze in pratica riceve un abbraccio dal sistema giudiziario qualche pacchetta sulla spalla in quanto riceve una pena molto leggera ed è libera di vivere il resto della sua esistenza in libertà quando le è stato chiesto se volesse dire qualcosa alla famiglia Omilia Brim ha affermato di essere dispiaciuta per quello che ha fatto e per il vuoto che la famiglia dovrà affrontare però ha concluso dicendo spero e prego che trovino un po' di compassione e perdono questa è una mia opinione ma non importa quanto Brim si sforzi di dimostrare che prova rimorso e pentimento sembra sempre che stia soltanto tentando di difendere se stessa personalmente io dubito fortemente che provi realmente rimorso per quello che ha fatto ha ricevuto la pena più leggera possibile ma non è abbastanza per lei vorrebbe uscire da questa situazione completamente impunita dopo aver tolto brutalmente la vita a un altro essere umano a seguito delle sue accuse e della sua condanna ha perso però la possibilità di praticare l'audiologia attualmente vive con i suoi genitori in Illinois ma si è appellata alla sua sentenza nella speranza di vincere e di poter riprendere a praticare il suo lavoro vorrei parlarvi anche dei genitori di Brin che l'hanno supportata al 100% dal primo giorno dopo la morte di Chad hanno continuato a denigrare il suo nome sostenendo che non si sarebbero sorpresi se avesse cercato di imporsi su Brin quindi di farle violenza sostengono che lei l'abbia attaccato per questo aggiungono anche che il fatto che Brin abbia ucciso Chad potrebbe essere una buona cosa perché forse in questo modo gli ha impedito di continuare a fare del male ad altre donne ora io comprendo che i genitori vogliano difendere e sostenere la propria figlia qualsiasi cosa accada e non credo che questa sia una colpa ma come hanno usato in quanto genitori la cui figlia è ancora viva accusare senza alcun fondamento un uomo ormai morto di una cosa così orribile come può la morte di qualcuno essere una cosa buona onestamente credo che queste persone dovrebbero vergognarsi di loro stesse perché per dire pubblicamente una cosa del genere bisogna avere un certo pelo sullo stomaco che evidentemente loro hanno il padre di Chad Sean risponde immediatamente a queste accuse dicendo che suo figlio non ha mai fatto nulla per riferire un'altra persona soprattutto se a lui vicina non è mai stato accusato di aver fatto pressioni o costretto qualcuno a fare qualcosa e considerando quanto tempo ci è voluto per arrivare al processo e quanto è stato pubblicizzato se Chad avesse mostrato questo tipo di comportamento qualcuno si sarebbe sicuramente fatto avanti per parlarne molti sono dell'opinione che è stato un errore dare a Brin una pena così leggera probabilmente sarebbe stato meglio offrirle un patteggiamento piuttosto che ridurre le sue accuse a omicidio colposo avrebbe dovuto passare un periodo di tempo in carcere ma con un patteggiamento avrebbe potuto avere una pena minore quindi il giudice probabilmente l'avrebbe condannata tenendo conto del suo stato mentale al momento dell'omicidio trovo che la mancanza di rimorso di Brin e il fatto che non si sia presa la responsabilità di dichiararsi colpevole di omicidio colposo dica molto di lei e della sua morale se fosse stata davvero una persona così gentile e premurosa come la difesa si è prodigata a definirla probabilmente sarebbe rimasta devastata da ciò che ha fatto indipendentemente dal fatto che fosse consapevole o meno in quei momenti ora se un bel giorno io ho un qualche tipo di attacco ho un blackout e uccido qualcuno e quando mi riprendo non ricordo di averlo fatto questa cosa non mi porterebbe a non provare senso di colpa o rimorso mi sentirei molto molto in colpa probabilmente sarei inizierei anche ad essere sotto shock perché è una cosa terribile ok togliere la vita qualcuno però per farvi capire Brin non dimostra alcun senso di colpa Brin ogni tanto piange ma piange per se stessa piange perché ha paura di finire in galera ovviamente sto parlando prima della della sentenza secondo me la sua è semplicemente paura di finire dietro alle sbarre né più né meno non riesco a immaginare cosa provi la famiglia di Chad perché davvero Brin se l'è cavata così facilmente e non è giusto perché ha ucciso Chad brutalmente e tra l'altro ha scelto lei di fuori e poi lo ha ucciso quindi sono molti a credere che meritasse una sentenza molto più dura avrebbero dovuto ritenerla responsabile di ciò che ha fatto mentre era priva di lucidità proprio perché aveva scelto lei stessa di consumare quella sostanza non è stata la sostanza a uccidere Chad ok è stata lei sicuramente ha avuto una crisi psicotica io ci credo ma trovo che sia impossibile obbligare qualcuno ad aspirare se non vuole e comunque non è questo il caso perché l'ha consumata volontariamente credo di conseguenza che se una persona sceglie di consumare una data sostanza accetta anche tutti i rischi e le conseguenze che ne derivano vi ripeto credo alla crisi psicotica anche perché vi ricordo che questa ragazza ha addirittura coltellato il suo cane di assistenza non penso che avesse delle intenzioni maligne ha semplicemente esagerato e non aveva idea che quella sostanza avrebbe avuto un tale effetto su di lei anche perché vi ricordo che in molti stati americani il consumo di questa sostanza è legale trovo tuttavia assurdo che i genitori di Brina abbiano provato a definire Chad un aggressore quando in questo caso è lui la vittima è lui ad aver perso la vita per mano della loro figlia che l'ha pugnalato per più di cento volte ovviamente sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso io penso di essermi espressa abbastanza bene insomma vi chiedo secondo voi Chad ha avuto giustizia? secondo me no assolutamente ed è molto triste quando succedono questi casi quando si arriva comunque a un processo ma purtroppo la vittima non riesce a ottenere giustizia e credo sia difficilissimo per i genitori di Chad riuscire ad andare avanti con questa situazione anche dopo il processo capisco suo padre anche se ha detto parole dure lo comprendo perfettamente perché comunque Chad è venuto a mancare in una maniera brutale terribile ha sofferto ha sofferto moltissimo e posso capire che Brin non era consapevole però come vi ho detto fino ad ora nessuno l'ha obbligata ad aspirare quel fumo ok nessuno non è come quando cioè nel senso non è che è andata in discoteca ha preso un drinkino qualcuno gli ha infilato qualcosa dentro nel drink e si è sentita male ha avuto un attacco psicotico e ha ucciso qualcuno in quel caso sarebbe una cosa diversa perché lei non ha assunto quella sostanza nel bicchiere volutamente no con coscienza in questo caso però Chad ha tirato fuori quello che doveva tirare fuori e lei ha detto uh voglio provare anch'io quindi questo la rende a mio avviso responsabile ma fatemi sapere cosa ne pensate voi perché questo caso secondo me è abbastanza particolare non avevo mai trovato case di questo tipo onestamente e quindi sono molto curiosa di sapere qual è la vostra opinione insomma sentetevi liberi di scrivermi quello che volete qui sotto nei commenti e ditemi anche cosa vi ha suscitato questo caso rabbia indignazione tristezza insomma onestamente a me questo caso fa un po' arrabbiare quindi sono curiosa anche di sapere le vostre emozioni io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.